Stegal, il fratello della Stegal lasciatrice, Zali Stegal e poi con loro c'è anche Burgol, Toma Burgol, partiti sono tutti vicinissimi nella prima curva numero 13 per Simone Malusa rischiata una caduta sempre Malusa davanti, Stegal è in seconda posizione caduta caduta tra Burgol e Nelson quindi favorito Stegal dalla caduta dietro e può andare a prendere il secondo posto dietro a Simone Malusa che ovviamente non può far altro che controllare e vincere una vittoria importantissima per lo snowboard italiano che sta cercando di crescere anche in questa specialità metamolizza soddisfatto questo è la classifica grazie a tutti grazie a tutti